Da Palazzo di Città l'avviso rivolto ad amministrazioni pubbliche, enti, fondazioni e associazioni senza scopo di lucro per raccogliere a stretto giro manifestazioni di interesse per la concessione temporanea di terreni di proprietà comunale. L'obiettivo è duplice, in primis applicare le misure previste dalle disposizioni in materia di contenimento e diffusione del batterio patogeno xylella fastidiosa, quindi contrastare gli incendi boschivi. Stando all'avviso pubblicato dal comune di Brindisi di recente, il concessionario potrà utilizzare i terreni a titolo gratuito per lo sfalcio dell'erba a uso zootecnico. A sue spese dovrà procedere allo smattimento nei centri di raccolta autorizzati. Non sarà possibile subaffidare l'incarico. La concessione ha durata sino al prossimo 30 settembre. L'avviso ha per oggetto terreni che si estendono su una superficie di circa 18.600 metri quadrati ed è stato approvato con delibera dell'aggiunta partendo dalla relazione dell'assessore al patrimonio sulla base dell'attività istruttoria svolta dagli uffici che si occupano della gestione degli immobili comunali. Nel testo della delibera si fa riferimento al fatto che il territorio della provincia di Brindisi è classificato come zona infetta, zona in cui ha attecchito la xylella e per questo i proprietari e i conduttori privati sono obbligati ad adottare specifiche misure di natura fisiosanitaria previste dal piano d'azione varato dalla Regione Puglia a dicembre 2022. La giunta regionale a sua volta ha preso atto del regolamento di esecuzione della Commissione europea. Nella relazione dell'esecutivo inoltre c'è un riferimento alla legge regionale che contiene norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e obblighi per prevenire e contrastare l'innesco e la propagazione di incendi.